I bambini devono vivere l'infanzia e tutti noi dobbiamo difendere il diritto al gioco, alle attività ricreative e la mia sollecitazione per l'apertura dei centri estivi vuole proprio provare a rimettere questo diritto al centro degli impegni della locale comunità educante. Questa emergenza sanitaria ha congelato, per così dire, la loro vita di relazione e questo sembra il momento giusto per ripristinare e ripartire e mettere al centro dell'attuazione istituzionale, dell'attenzione istituzionale e il ripristino dei loro diritti, permettendo il graduale rinserimento di bambini in un contesto di gioco. Perché ho voluto sottoporre alle competenti autorità regionali la gravità del rischio? Perché nel breve e lungo termine potrebbe ricadere sul benessere tutta questa chiusura, questo congelamento, potrebbe ricadere sul benessere psichico, sociale ed emotivo dei bambini. Nella mia proposta è evidenziata la necessità di organizzare i centri estivi e nello stesso tempo adempiere ai doveri imposti dalla pandemia relativamente alle linee guida del DPCM del 17 maggio del 2020 che in qualche modo dà le direttive per l'organizzazione di questi centri estivi. Queste linee guida impongono la ricerca di un giusto bilanciamento tra il diritto appunto alla socialità, al gioco dei bambini e dall'altra parte comunque la necessità di garantire condizioni di tutela non solo per la loro salute dei bambini stessi, nonché quella delle famiglie, degli educatori, del personale ausiliario, tutti impegnati appunto nello svolgimento delle diverse iniziative che i centri estivi portano avanti. La necessità di compensare il dovere della prevenzione dai rischi di pandemia con il diritto dei bambini al gioco e alla socialità comunque deve trovare sempre una concreta attuazione in una strategia che deve coinvolgere tutte le associazioni e le istituzioni competenti per materia, mi riferisco quindi allo Stato, alle regioni, ai comuni. Voglio tra l'altro sottolineare che questa mia proposta vuole essere un esempio, uno spunto delle possibili indicazioni da seguire da parte dei comuni per l'apertura di questi centri estivi. Resta comunque fermo il concetto che l'autonomia organizzativa e decisionale in materia aspetta chiaramente alle istituzioni, però io mi auguro veramente che questa mia sollecitudine possa in qualche modo ripristinare l'attenzione su questi bambini della scuola d'infanzia che sono stati veramente in questi mesi abbandonati in qualche modo a loro stessi. Io mi batterò affinché gli stessi possano ritornare ad essere visibili e ad avere l'attenzione dovuta a tutte quelle che sono le loro esigenze.